bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi siamo qua come vedete su what the hen siamo in what the hen e oggi ragazzi voglio fare un video prima che mi tirano via quella bella offerta sugosa che ci hanno regalato a bel po di noi voglio con voi fare un chest opening giga di 5 forzieri epici ragazzi come vedete qua in fianco a me hanno fatto un mega super sconto quel di charged monkey e da 1700 gemme che era il prezzo originale del forziere epico è stato portato a 1190 quindi c'è un bel risparmio ragazzi di 500 e passa gemme che vuol dire che ogni 3 forzieri epici praticamente è come se ne avessimo guadagnato uno direi ragazzi di non fermentare ulteriormente andiamo giusto a vedere il deck che è questo qua ve lo sto mostrando in questo momento dove come potete vedere ci sono 4 carte comuni muzzi cuore infranto boom seal puzzi e il nostro arkinson cupido con una carta epica che è rosi la rossa ed una carta rara che è il vortex in questo chest opening che voglio fare con voi oggi tenterò spererò più che tentare di trovare più rosi la rossa disponibili non ci fermiamo assolutamente e cominciamo subito ragazzi con il primo forziere epico 1190 gemme per noi sbruciacchiate arrivano 2252 di gold molto bene molto bene abbiamo 7 mandate 8 con questa sono subito 57 arkinson cupido ragazzi possibilità di potenziarlo a livello 15 molto bene molto bene avanti ancora 143 chiappanebbia questi invece non li ho mai usati infatti ce l'ho a livello 3 una delle pochissime carte che non ho mai potenziato non mi interessa al momento giocarla forza forza 279 giò semi qualunque wow potenziabile ragazzi a livello 19 e semi qualunque fa veramente male a livelli alti forza forza arrivano subito le rare 82 anna avventuriere ragazzi mamma mia quante mamma mia 4 mandate ancora 4 mandate ancora sono ancora rare sono 34 tin attascabile vorrei proprio vorrei proprio il vortex il tornado vediamo se ce l'ho da adesso subito le epic ragazzi 14 elfred 14 elfred brutta situa me continua a dare elfred come se dovessi avere la servitù in casa tutti questi maggiordomi forza 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 5 muzzi normali e questa non fa mai schifo ragazzi wow muzzi potenziabile al 3 c'è puzza c'è puzza eh sì ragazzi c'è puzza di leggendaria vediamo cosa arriva attenzione è una leggendaria ed è OGG ed è OGG ragazzi che arriva si palesa così per noi sbloccato OGG ragazzi super tank assolutamente micidiale andiamo subito a scrinnarci cattivo il primo baulozzo ovviamente non ci riusciamo perché non potremo mai riuscirci al primo colpo altrimenti sarebbe troppo facile ce lo scrinniamo e via così ragazzi via così andiamo subito ad aprire il secondo baulozzo epico per noi purtroppo niente rosila rossa niente rosila rossa secondo baule ragazzi secondo baule attenzione 2442 di gold ue ragazzi va che sto spendendo 5000 gemme ma porca miseria voglio vedere un sacco di like per questo video e miseriaccia miseriaccia iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto ragazzi dai 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 5000 gemme così così qua sono meno le mandate ragazzi qua sono meno le mandate sono solamente 7 con muzzi cuore in franto però ne arrivano 56 e possiamo potenziare anche questa a livello 15 molto bene la usiamo 141 spinoso fiorito ragazzi anche lo spinoso fiorito c'ha l'abilità uguale a muzzi ha subito sbloccata praticamente dall'inizio fa 3 attacchi in un colpo solo molto molto interessante giocato a livelli alti anche perché è veramente velocissimo avanti ancora così 274 olandesi neonati vabbè vabbè questo non mi interessa tanto fa fa brutto perché a livello 30 ti sblocca l'abilità del ritorno di danno e quindi fa il 100% di danno dell'avversario ma non ce ne frega momentaneamente avanti con le rare 80 toni basso budget porco toni porco toni non mi serve non mi serve il basso budget forza forza ancora le rare 33 luzzi ragazzi urca miseria niente tornado niente tornado per me forza dai dai arrivano le epiche arrivano le epiche sono 12 lauren sono 12 lauren questa no questa no nel senso l'ho usata tantissimo ma non la sto più usando porca miseria rosi la rossa rosi la rossa rosi la rossa arrivano le epiche sono 5 gran chiappa non me la vuole dare ragazzi non mi vuole dare rosi la rossa e quindi finisce di già ragazzi il secondo baule ne abbiamo ancora 3 da aprire ve lo ricordo dai che vogliamo rosi dai che vogliamo rosi forza terzo baule terzo baule e qua sono già 300 like per il terzo baule 2230 di gold 7 mandate arrivano 136 gola sguardiano questo proprio all'uno non l'ho mai calcolato come carta dai ragazzo mio 264 arachno chiappa brutta sito il primo baulozzo è stato figo perché ci ha trovato subito la leggendaria adesso stiamo andando di male in peggio 5 mandate arrivano ancora comuni sono 54 berta bavaresi questa mi piace invece questa mi piace la inserisco ogni tanto quando comincia a girare male il deck ed effettivamente serve per chiudere la combo con muzzi corinfranto siamo alle 4 mandate finali ragazzi 79 cura potevi darmi l'incantesimo tornado 79 cura per me dovrebbe togliere dovrebbe curare sui 270 280 adesso vediamo se arrivano 33 olga spacca cuore ragazzi la carta della pami niente da fare niente da fare sono le epiche adesso ragazzi sono le epiche speriamo i rosi com'è che si può fare rosita rosi e rosita vieni qua vieni qua con me a fare porca miseria devi aprire il chest opening vai rosita non posso non ho le mani hai ragione rosita scusa allora con rosita di fianco ragazzi andiamo a vedere le epiche sono ancora 4 elfred no no 4 elfred rosita mi stai portando sfortuna no xyuder non ti porto sfortuna va bene allora andiamo avanti così vediamo se riusciamo 12 smith il caposquadra ancora niente ragazzi ancora niente comincio a pensare che la colpa sia tua va che ne mancano solo due ancora due ragazzi ancora due ragazzi forza forza col quarto forziere epico dai che questo è un super chest opening per questo mitico what the end ragazzi vi ricordo che ancora chi non lo avesse scaricato non lo faccia subito ma venga in una mia live delle 14 che gli mando un link così io posso avere delle gemme gratis facciamo il chest opening poi forza forza 1281 di godrino 136 berta bavarese brava brava rosi vedo che comincia a funzionare la cosa vai rosi eh guarda bene mi raccomando porta fortuna rosi attenzione con la quinta 266 arkinson cupido brava rosi grazie grazie molto bene ragazzi la rosi sta portando bene brava rosi brava rosi wow arkinson potenzialmente portabile a livello 16 credo attenzione 254 chiappalla anche questo non mi dà fastidio brava rosi brava non mi dà fastidio perché il chiappalla ragazzi è un mini tank ha una fucilata di vita soprattutto a livelli alti comincia ad avere molta importanza nel deck ancora 4 mandate rosita dai che arrivano le rare dai che arrivano le rare sono 74 olga la feroce dai rosita scuotiti un po' shakerati un po' cagami quest'uovo dai 74 olga 31 chiappacolpo niente niente da fare niente da fare non c'è colpa mia non è colpa mia no invece rosita è colpa tua attenzione con le epiche arrivano 12 mona la butta fuori che a livello 4 dovrebbe cominciare ad avere un considerevole numero di punti salute non indifferente dai che voglio rosi dai che voglio rosi arrivano 5 mi innamoro smith unbelievable shit ragazzi unbelievable shit shit rosita shit non ce la si fa non ce la si fa ragazzi mamma mia mamma mia andiamo ad aprire l'ultimo baule l'ultimo forziere epico ragazzi per questo mega chest opening fatto sul canale di xyuder vediamo un po' cosa ci arriva sono le ultime ragazzi sono le ultime vai altre 1190 gemme bruciate 2026 di gold per noi bene così bene così 142 chiappalla 6 mandati ancora 6 mandati ancora attenzione 277 fulmini e niente da fare niente da fare vabbè che io come comuni mi piacerebbe avere dei puzzi non poteva darmi rosita 277 puzzi invece che i fulmini vediamo se arrivano ancora comuni sono 57 gol a sguardiano sui nazza la sui nazza niente da fare ragazzi siamo arrivati alle ultime 4 mandate speriamo in due rare e due epiche vediamo cosa arriva 82 fulmini sì cioè 82 tornadi arrivano i tornadi molto bene questo lo aspettavo molto bene molto bene il tornado forza forza 34 colonna infuocata ragazzi anche questa comincia a salire anche se lo sappiamo troviamo gli arena master che hanno le carte rare a livello 16 ma noi siamo contenti già di averla a livello 6 allora ragazzi miei prima di andare a chiudere questo mega chest opening e di salutarci vi ricordo per l'ultima volta di lasciare un bel like su questo video se ancora non lo avete fatto e mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio dai eh dai rosita dai rosita arrivano 5 muzzi ancora questi non mi fanno mai schifo non mi fanno mai schifo mi prude la mano mi prude la mano dai rosi dai rosi a 14 flori chiappa rosita niente da fare ragazzi niente da fare va bene ragazzi miei direi che questo super mega chest opening si può considerare va bene dai speravo almeno di potenziare di un livello la rosi ma niente di più prima di salutarci andiamo a potenziare la nostra muzzi cuore infranto che va subito così a livello 15 128 il danno e 68 la salute potenziamo anche il nostro papai xenos scattivo così ragazzi 750 lo possiamo tirare su ancora lo possiamo tirare su ancora ragazzi avanti avanti livello 16 e lo possiamo tirare su un'altra volta bene così ragazzi livello 17 per arkinson cupido 40 il danno 158 i punti salute niente di interessante ma eccoci ragazzi il vortex il mega vortex 1000 di gold e lo portiamo su a livello 5 ragazzi vortex che inizia ad avere 6.2 di area di effetto vediamo vediamo forza forza avanti allarghiamo ancora allarghiamo ancora 6.5 ragazzi l'area di effetto del vortex assolutamente molto importante nel deck e direi che ci possiamo fermare qua ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video che io vi ringrazio un botto noi ci vediamo presto ciao